Comprate una pianta e avrete un coniglietto! Il coniglietto! Ah, voglio accarezzarne uno! E non dimenticate che i cuccioli vengono dal rifugio Sunnyside Animal Rescue, dove potrete fare domanda per l'adozione. Ottimo! Sai una cosa, penso che funzioni davvero. Ero sicura che avrebbe funzionato. The Dash non potrà superarci nemmeno... Se avesse un cavallo? In questo caso forse sì, ma... Proprio così si tratta solo di un'altra delle mie fantastiche idee. Miei cari ragazzi, vi presento Chousy, che potete montare gratis dopo ogni acquisto. Wow! Sul senso, è un po' di stupendo! È meraviglioso! Stiamo scherzando? Un cavallo? Ma certo, non c'è niente di meglio di una cavalcata gratis, nemmeno coi vostri roditori in fuga. Per la precisione, sono coniglie, e poi in fuga da dove si sono tutti... Spariti! Ma dove sono finiti? Oh, eccoli là! Abbiamo dei conigli da recuperare! Guarda come saltellano! Saranno scappati nel teatro! Almeno sono tutti nello stesso posto. Il posto dove l'orchestra sta per iniziare il suo concerto? Dove saranno andati? Con quelle orecchie enormi dovrebbe essere facile trovarli. Torno tra due minuti e poi iniziamo il concerto, ma voglio che nel frattempo restiate attenti e concentrati. Nessuna interruzione e nessuna distrazione durante le prove, d'accordo? Hai sentito chi ha detto? Abbiamo due minuti! Suoni in modo eccezionale! In bocca al lupo! Ok, uno, due, tre e quattro. Oh, oh! Oh, oh! Ci sono tutti oppure... Oh, oh! Ne manca uno? Eccolo là! Oh! È il direttore! Si accorgerà del coniglio, non c'è più niente da fare! Non è detto! C'è ancora tempo per il lieto fine! Oh! 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 Oh!